Sì? Noi abbiamo già staccato la spina così non ci sono colpi niente. Dici, dimmi. Con il barista tu potrebbero tirare. Grazie. Buon alle? Va bene, grazie. 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 Tutto a posto. Grazie. 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 Ciao. Tutto bene, tutto bene, adesso non posso parlare, farà un'ora, ciao, ci vediamo dopo, scusa se mi sono dimenticato di chiamare. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 a tutti. grazie 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 a tutti.